Sì, una fotografia professionale è un bel mondo, è carino. Bisogna decidere se vuoi stare dentro o fuori da questo mondo, perché se si gioca a monopoli, si gioca con le regole dei monopoli. Allora, vediamone un pochino assieme queste regole. Allora, quasi tutti si è iniziato la propria professione fotografica scoprendo che c'è la possibilità di fare una cosa che fiscalmente si chiama la ricevuta per prestazione occasionale, assoggettata e ritenuta da conto. La conosciamo tutti, amichevolmente, tutti quanti la si chiama, la ritenuta da conto. Ora, va detto che in partenza si ha la sensazione che fare questa cosa, cioè la ricevuta per prestazione occasionale, assoggettata e ritenuta da conto, sia la genialata che mette tutto a posto, tutti contenti. Non mi devo sbattere per fare una configurazione fiscale definita in qualche maniera, è semplicissimo, pago le tasse, la volta che lavoro pago le tasse, quando non lavoro no, e siamo tutti contenti. Però, attenzione, nella mente di chi ha fatto il nostro impianto fiscale, la prestazione occasionale non è la prestazione che si fa di tanto in tanto, quella è una prestazione sporadica, occasionale, letteralmente, vuol dire che capita per caso. Allora, se per caso ti capita che tu sei in tutt'altra faccenda a faccendato e qualcuno ti chiede di fare un servizio, da assistente, un servizio di matrimonio, un servizio di catalogo, qualche lavoro, ma tu sei in tutt'altra faccenda a faccendato e non te lo vai a cercare questo lavoro, allora quella sì è una prestazione occasionale, che per caso, oh boh, mi è capitata. E quella la descrivi così come adesso vediamo insieme. Ma se la prestazione non è occasionale, ma solamente ce ne sono poche, perché sei ancora un professionista sfigato, sei un professionista, cioè sei una persona che dedica energie a cercare di lavorare. In questa situazione la prestazione occasionale non è una prestazione occasionale e quindi è non definita e quindi è in evasione di IVA e quindi è una situazione che mette sotto il tappeto una sporcizia che però è sporcizia. Allora, torniamo a noi. Prestazione occasionale, sì, quando si può fare, come si fa, in che maniera ci si regola. Premesso che va usata solamente per veramente le primissime fasi dell'attività e premesso che nelle prime fasi dell'attività comunque ti stai rapportando con un mercato e quindi quello che descriverai fiscalmente deve essere qualcosa rispettoso delle esigenze dei tuoi clienti, certo, rispettoso dei tuoi bisogni di guadagno, che sono i tuoi, non quelli di altri, ma deve essere anche rispettoso del mondo in cui ti trovi, del mondo professionale in cui ti trovi. Cioè, se esiste, ed esiste, un mercato con delle sue regole, con un suo modo di funzionare, non puoi, non si può, non tu, ma non si può trarre vantaggio pestando i piedi agli altri, sapendo che mentre loro sono lì che si alterano con i piedi in mano tu ne godi. E questa cosa vale per chiunque, sia per chi partendo ancora nella configurazione fiscale, sia per chi da professionista ha la partita IVA e non può, nemmeno lui, non può procurarsi dei vantaggi di straforo, ad esempio non fatturando quello che fa, perché non fatturare quello che si fa, non pagare le tasse su quello che viene fatto, significa poter lavorare a metà del prezzo. A questo punto non è l'abusivo, è un atteggiamento abusivo. Chi si procura un vantaggio, fregandosi delle regole che altri fessi rispettano, chi si procura il vantaggio in questa maniera sta giocando all'abusivo, che lo sia o che non lo sia. Fatta questa premessa, vediamo. In partenza, dicevo, si può utilizzare il sistema del ricevuto per prestazione occasionale, assoggettata e ritenuta dal conto, e si fa così. Foglio di carta, bianco, due copie, una per te e una per il cliente. I tuoi dati fiscali, nome, cognome, indirizzo, luogo e data di nascita, codice fiscale e i dati fiscali del cliente. Data della ricevuta, una numerazione progressiva all'interno dell'anno, la numero uno, la numero due, la numero tre, la numero quattro la faccio a dicembre, a marzo dell'anno dopo che faccio l'altro lavoro e la numero uno dell'anno successivo. Va bene. Per mie prestazioni occasionali relative a realizzazioni di servizio, assistenza, quello che è, importo, che è il lordo, è quella cifra, cioè che devi dire al cliente che il cliente dovrà pagare. meno ritenuto da conto del 20%, netto a pagare, cioè la differenza fra i due. Allora, se tu vuoi avere da un cliente, supponiamo, 1000 euro, devi chiedere al cliente l'importo che la torta dalla quale, togliendo il 20% si ottiene i 1000 euro che vuoi, che attenzione non è 1000 più il 20%, è, in questo caso, in questo esempio, 1250, perché 1250 è la cifra dalla quale, togliendo il 20%, ottengo i 1000 che voglio. La formuletta è la cifra che voglio diviso 80 moltiplicato 100 e questo è il lordo. Attenzione, la ritenuta da conto viene versata dal cliente a tuo nome in anticipo sulle tue tasse. Ritenuta da conto significa una trattenuta, una ritenuta in acconto sull'IRPEF che pagherai. Non viene effettuata la ritenuta, cioè questa trattenuta da conto, quando il cliente non ha una sua partita IVA. Quindi, per capirci, se fai un servizio a un privato, la cifra della tua ricevuta da prestazione occasionale sarà la cifra intera, euro 1000, punto, non c'è la ritenuta. Come funziona? Che se hai subito delle ritenute da conto, sommi le ritenute da conto e quando fai il modello unico, la dichiarazione dei redditi, dirai allo Stato, al fisco. Io ho preso 3, mi hanno trattenuto 300, mi hanno trattenuto 60, quindi adesso facciamo i conti di quello che ti devo ancora o di quello che tu mi devi restituire a seconda delle diverse situazioni. E cioè, la ritenuta viene portata in deduzione dell'importo che devi pagare. Se invece hai ricevuto dei soldi senza che venisse fatta la ritenuta da conto, perché il cliente è un privato e quindi non ti trattiene questi soldi per versare lui lo Stato, dichiarerai che hai incassato quella cifra intera e pagherai quindi le imposte che nell'insieme devono essere pagate. Per quanto si può andare avanti con la ritenuta da conto? Non c'è un tempo, c'è quel meccanismo che dicevamo prima, la prestazione deve essere occasionale, non ricercata. Quando cominci a fare l'assistente in maniera continuativa, quando ti fai un sito, i biglietti da visita, vai a cercare clientela, diventi un professionista. Oltretutto mantenersi ritenuta da conto non è conveniente neanche dal punto di vista economico, lo vediamo dopo quando parliamo dell'apertura della partita IVA come contribuente minimo, che è una delle possibilità, la possibilità successiva. E oltretutto c'è una barriera di 5.000 euro, con lo stesso cliente o 5.000 euro all'anno. Barriera oltre la quale la ricevuta da prestazione occasionale si può ancora fare, ma diventa un reddito assoggettato anche a contributi IMSS. A questo punto, ritenuto da conto sull'IRPEF, che è una tassa abbastanza sostanziosa che cresce a mano a mano che aumentano i redditi, più trattenute per la posizione contributiva IMSS, le imposizioni, le tasse che paghi su questa cosa, diventano sconvenienti rispetto a quelle che si hanno a prendere una partita IVA come contribuente minimo, che è la cosa di cui parliamo in un altro video. Grazie.